ciao ragazzi buonasera a tutti buonasera ospiti studio federico muratori e alessandro spiega siamo di ritorno dalla trasferta di grosman lo zivido ha raccolto altri tre punti fondamentali ricordiamo passo passo del superga sul campo del santa rita è un orione bravo e lesto da approfittare della caduta oggi non c'è un migliore in campo i ragazzi alcuni sono andati a mangiare la pizza di vigenza in contenta noi purtroppo causa di forza maggiore per un motivo o per l'altro siamo qui e vi vogliamo raccontare la partita perché adesso non è che tutti devono scappare cioè ci dovrà essere sempre qualcuno insomma che dire una vittoria importante analizza brevemente la partita partita non molto semplice combattuta sotto una pioggia battente pioggia di merda comunque uno zibido battagliero riuscito ad averla meglio di un grosman abbastanza messo bene in campo volevo attualizzare un po l'arbitraggio abbastanza senso unico nei confronti del grosman però ma se dovessi dare un aggettivo all'arbitro che aggettivo daresti adesso va bene che bisogna trattarli bene avere rispetto però se continuo a dare senso unico non te li tira fuori è un disonesto oggi stasera proprio disonesto questi occhi sbarrati mi chiamerai sveglio risveglio dio cane disonesto perché ha fischiato tutto a favore lui quindi però siamo andati anche contro questo e siamo riusciti a portare i tre punti a casa uno zibido in vantaggio raggiunto sul pareggio con rigore con rigore che lasciamo perdere dubbio indesistente direi che fuori aria non c'era nemmeno fallo ammonito che altro 1 a 1 c'è stato un momento di panico dove lo zibido pensava di non lo so c'era un'aria strana si ricordiamo che su 1 a 1 boccia una gran parata e poi subito dopo siamo riusciti a fare 2 a 1 1 in contropiede e 3 a 1 3 a 1 a 1 tempo poi secondo tempo abbiamo amministrato le puntate partita c'è assestata e pietta di cosso un gol maggiore e altri 3 punti in saccoccia la marcia procede siamo lì tutte appaiate andiamo avanti sempre umili testa bassa e lavoro tanto lavoro adesso vediamo i recuperi di orione ma ci vuoi far vedere una piucca curiosità vuoi mostrare una chicca una chicca la parte scarpe del superga incredibile io concluderei dicendo lo zibido va l'orione va e il superga non tiene il passo tre punti importanti quelli che hai perso oggi ragazzi domenica si va dove si va la piatta è grasso la piatta è sabbiatense di mattina però ci dobbiamo credere fino in fondo ci dobbiamo credere ormai siamo dentro se non abbiamo altro da dire chiudere la linea perché siamo stanchi una partita tremenda stovaco vuoto abbiamo fame pioggia campo di merda fango stavamo partito sono stati mazzulati dura va bene si potrebbe raccontare un retroscena a fine primo tempo dove è stato protagonista un nostro ospite però non diciamo nulla meglio non svelare ragazzi a presto e a domenica prossima ciao a io ciao e forte a zibido ciao ragazzi